Infatti oggi Sicilia e Calabria si stanno lentamente al... Questo video è un video sugli aspetti geologici, sul rischio sismico che c'è proprio nello stretto di Messina. Faccio vedere tutte le faglie che ci sono. È un video che ho fatto due anni fa, che è stato molto apprezzato, ho già più di un milione di visualizzazioni. E credo sia forse il più visto sullo stretto di Messina su YouTube. Il Consiglio dei Ministri due giorni fa ha approvato il decreto sul ponte dello stretto di Messina, per cui se ne sta riparlando in tantissimi, mi avete scritto tra ieri e l'altro ieri, per cui andatevi a rivedere questo video e noi intanto stiamo facendo anche un 3D pazzesco sul ponte probabile, ponte futuro. Ciao!